Abbiamo giocato con una buona intensità, è stata una partita giocata anche su buoni ritmi, su buoni livelli, probabilmente non siamo stati così cinici nei momenti importanti da riuscire a portarla a casa, vedi il primo set, vedi il quinto set. Comunque è un punto importante perché noi sappiamo che dobbiamo lottare e soffrire contro ogni squadra, in particolare quelle contro cui ci giochiamo l'accesso ai play-off, questo era uno scontro diretto, l'abbiamo perso, però aver guadagnato un punto è già una cosa positiva per come si sta mettendo la partita avremmo potuto anche perdere 3-1, per cui direi che è d'obbligo vedere il bicchiere mezzo pieno, ma penso che servirà a noi come a tutte le altre squadre avere una settimana dove non si gioca e quindi poter lavorare, affinare i vari aspetti del gioco che magari sono un po' deficitare in questo momento. È stata una grande battaglia, purtroppo l'abbiamo persa, sia per meriti avversari che per demeriti nostri, ma per grandi demeriti degli arbitri. Scusa, non mi piace parlare degli arbitri soprattutto quando perdo, ma oggi sono stati veramente scarsi ed è giusto dirlo. Noi nel quarto set, a discapito di questi errori, abbiamo reagito e abbiamo portato a casa un quarto set che era praticamente compromesso. Il quinto set siamo stati molto bravi fino al giro del campo e poi credo che nelle piccole cose loro ci hanno messo un po' più di lucidità.